bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono mister electric e oggi siamo su pacman avventure mostruose la quarta ultima parte per i giochi arcade allora l'altra volta ci eravamo soffermati sul primo gioco arcade che era difficile non difficilissimo che era il razzo limone mentre oggi noi o più diciamo leggermente più semplice e più diciamo che più competitivo tra virgolette e che cazzo sto mangiando che succede c il mio ultimo sono andati a fendere forte e che palle comunque non tre pacman per cazzo faremo secondo voi faremo questo che il carra ananas no faremo il faremo il elicottero sciega che diciamo è un po più facile di quello dell'altra volta infatti bisogna fare esplodere la melma per liberare i pac mondialisti e sembrano quelli che giocano a calcio però proteggi i pac mondialisti finché non saranno in salvo fai esplodere gli spiriti neri per liberare i pac mondialisti afferri i pac mondialisti ci sono anche altri smashing con afferri i pac mondialisti in caduta libera e deposita le vicine rifugi diciamo che è un po stupido come gioco però aspetta un attimo ora con la levetta analogica sinistra ci dobbiamo muovere con il quadrato spariamo col triangolo sbianciamo le bombe e con x rilasciamo con x rilasciamo i pac mondialisti elicottero sciega tocca i pac mondialisti per raccoglierli però mi x quando sei vicino a un rifugio per farmi diciamo salvo infatti vedete è più facile però naturalmente vedete ne prendiamo uno e lo depositiamo qui il pac mondialista se non è stupido si saprà difendere e quindi vedete così è la oh non l'ho preso no è andato ah è andato di là perfetto questo invece dovrebbe andare di là ecco qua perfetto siamo morti comunque ragazzi avete capito un po' la struttura del gioco naturalmente ricevete cioè ripartite sempre dallo stesso punto o quando avete liberato i pac mondialisti ok l'abbiamo preso ah è andato già ok lo prendiamo lo rilasciamo vai dentro da perfetto perfetto è molto più semplice è molto più semplice è molto veramente molto più semplice perché non ci sono tanti ostacoli sono tanti fantasmi e poi più la della riduzia è bravo lo lasciamo perfetto ne manca solo uno quello là dopo averlo fatto completeremo il primo livello vieni qui vedi vedete cittadini salvati 7 su 7 tempo di completamento 76 secondi in un buon tempo bonus tempo vabbè ci sono mi pare sei livelli intorno ai sei livelli perché dura veramente poco usa le armi le bombe ciliegie per disfruggere le prigioni di melme e liberare i pac mondialisti sembra la stessa cosa quindi noi prenderemo e lo butteremo qui è andato perfetto è andato senza ok lo prendiamo e vedete c'è scritto quando dobbiamo rilasciarlo perfetto l'ho rilasciato è andato sono tre perfetto bravo che culo sono tre qua sono cinque però cerchiamo di cesso di merda vattene a stare in culo perfetto uno due uno due ah uno alla volta si può prendere quindi rilasciamo lo prendiamo lo portiamo al sicuro qui perfetto bravissimo e ne mancano cinque ok perfetto ok salvato salvato è molto più semplice vuoi che diciamo per me perché perché io infatti già ne manca uno semplice ecco qua il secondo livello è completato perché io in verità già avevo finito questa sua ciliegia è molto una stronzata proprio vivente sembra poi che il dito là sotto un gesto un terzo dito quasi qua ok uno salvato due salvati stronzata ma mai vista ok tre salvati no ho buttato da giù no no l'ho salvato l'ho salvato salvato uno quattro o cinque o due o tre no no aspetta aspetta perfetto così tre uno naturalmente però lasceremo i pacchi mondialisti liberi i fantasmi si riprenderanno e quindi moriranno poverine oh mi hanno colpito sti zingari no ok vuoi uccidere anche le vetugie no sono morto va bene dai abbiamo altre due un'altra vita va bene si può fare si può fare e abbiamo altri due fantasmi da salvare dai fantasmi da salvare e quindi e e e e e finito pure il terzo livello in tanto tempo diciamo minuto e tre minuto e tre non no guarda uno due culo culo devo due vite ancora si perdiamo naturalmente ripartiamo da questo livello non è che ci fa fare tutti i livelli culo gigantesco non è che ci fa fare tutti i livelli da capo fortunatamente no poi sono cazzi loro se me lo fanno fare cioè sono cazzi miei più quei loro perché loro ma che cazzo ok ragazzi allora dobbiamo salvare ma che cazzo ci fa sto stronzo io 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 ok 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 altri quattro altri tre altri tre no 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 non cadere non cadere non cadere una volta sì sì una volta è successa che cadde sì sono altri due non farti colpire sono altri due eccoli qui ok ok uno e due uno e due abbiamo finito erano quattro livelli una stronzata come avete visto con la direzione complicata è ricotta e ciliegia ma non fu il cotto sì ero soltando quattro stupidi livelli va bene allora ragazzi questa era la quattro ultima parte la prossima volta verrà fatto questo magnifico carro ananas mentre l'ultima la penultima parte qual era la terz'ultima questa penultima parte questa sono i paccherini sono i paccherini che devi viaggiare dentro i tubi e devi sconfiggere i fantasmi è un po' la stessa cosa del carro di razzo limone il coso là e mentre carro ananas è leggermente più difficile di ciliegia e invece l'ultima parte sarà la battaglia in multiplayer con mio fratello e masterhust64 che verrà a casa masterhust64 va bene infatti ci raccogliamo questi ciliegia 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 globi 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 allora ragazzi questo video è durato è durato è durato poco veramente poco poi ci saranno molti tagli va bene quindi il vostro video il video verrà intorno alle 9 minuti 10 quindi ragazzi grazie a tutti per aver visto questo video mister electric vi propone diciamo volevo dirvi che abbiamo raggiunto quasi 150 iscritti ne mancano altri due quindi quindi mettetevi in moto oh my god vabbè quindi ragazzi iscrivetevi al mio canale mi piace commento condividete e iscrivetevi anche al suo magnifico canale un saluto da mister electric che vi dice un saluto di mister electric che vi dice ciao e naturalmente per il primo acchitto vi apparirà questa gigantesca immagine che va po' Grazie a tutti.